Penalizzazione dimezzata, il meno 4 diventa meno 2 in seguito alla decisione della Corte federale d'appello che stamane ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall'avvocato Eduardo Chiacchio, legale del Foggia. Il club rosso nero tira dunque un deciso sospiro di sollievo. Sorridono anche Zdenek Zeman ed i suoi che vedono migliorare la classifica. Il Foggia sale da 29 a 31 punti, scavalca il Taranto e si colloca all'ottavo posto in classifica con sole quattro lunghezze dal terzo posto. Ridotte anche le sanzioni inflitte al presidente Nicola Canonico e a Maria Assunta Pintus per canonico inibizione ridotta da 6 a 3 mesi, per Pintus da 4 a 2. Queste dunque le decisioni con le relative motivazioni che saranno pubblicate a gennaio. Il club tuttavia potrebbe percorrere altre strade e scegliere di ricorrere al terzo grado di giudizio nel tentativo di vedersi restituiti. Gli altri due punti sottratti dal Tribunale federale nazionale e relativi al certificato di carichi pendenti sostituito da un'autocertificazione. Una notizia accolta con moderato entusiasmo da tutto l'ambiente rosso nero che ora guarda con rinnovata fiducia ad un campionato che riprenderà il prossimo 9 gennaio e che per il Foggia coinciderà con due trasferte di fila sui campi del Potenza Prima e della Turris Poi. Ieri intanto la squadra ha ripreso a lavorare agli ordini di Zeman, oggi, domani e giovedì doppia seduta al campo FIGICI. Poi il rompete le righe e la ripresa definitiva programmata per il 3 gennaio.